al galà per l'avvio del festival della canzone italiana non poteva mancare il sindaco di Sanremo dunque mi è venuta un'idea vedendola sapendo che qui ci sono molti abruzzesi che è molto presente e viva la figura di Don Orione Don Orione è molto amato in Marsica a seguito del terremoto lui prese tutti i bambini orfani li portò via utilizzando addirittura la macchina del re tra questi Ignazio Silone alle ore 7.53 del 13 gennaio 1915 una violenta scossa di terremoto che raggiunge l'undicesimo grado della scala Mercalli distrugge Avezzano e quasi tutti i comuni dell'area marsicana è un duro inverno quello del 1915 l'Italia ancora neutrale nella guerra che già sta infiammando l'Europa si mobilita a favore dei terremotati il problema principale è quello delle migliaia di bambini rimasti orfani tra di essi anche Secondino assieme al fratello Romolo la madre è rimasta sotto le macerie mentre il padre era morto tre anni prima tra i volontari che arrivano in soccorso da tutto il paese anche un prete già famoso per il suo impegno a favore dei bambini Don Orione avrei molte cose da dire sul primo incontro con Don Orione una di quelle mattine grigie e gelide assiste a una scena assai strana un piccolo prete sporco e malandato con la barba di una decina di giorni si aggirava tra le macerie attorniato da una schiera di bambini e ragazzi rimasti senza famiglia in vano il piccolo prete chiedeva se vi fosse un qualsiasi mezzo di trasporto per portare quei ragazzi a Roma in quel mentre arrivarono e si fermarono due o sei automobili era il re col suo seguito che visitava i comuni devastati appena gli illustri personaggi scesero dalle loro macchine e si allontanarono il piccolo prete senza chiedere il permesso cominciò a caricare sopra di esse i bambini da lui raccolti ma come era prevedibile i carabinieri rimasti a custodire le macchine vi si opposero affatto intimidito il prete chiese al re di lasciargli per un po di tempo la libera disposizione di quelle macchine date le circostanze il re non potesse consentire appena il piccolo prete con il suo carico di ragazzi si fu allontanato chiese attorno a me chi è quell'uomo straordinario una vecchia che gli aveva affidato il nipotino mi rispose un certo Don Orione un prete piuttosto strano Ignazio Silone venne qui a Sanremo e vi frequentò il quarto ginnasio quindi potremmo proporre un gemellaggio ci sono tutti i motivi ma può essere un'idea da portare avanti noi lo ricordava lei con la comunità abruzzese abbiamo la comunità è più importante all'interno della comunità perfettamente integrata che dà un grande apporto alla città di Sanremo io stesso ho una moglie abruzzese per cui di origine di chieti per cui insomma è un'idea insomma il legame non solo ideale ma anche con l'abruzzo è un legame che è importante portare avanti per cui noi posso dare una disponibilità di massima a portare avanti questa iniziativa benissimo la ringrazio sindaco passeremo questa iniziativa questa proposta al sindaco Floris va bene va bene ci sei mai mi metterò in contatto senz'altro questi sono piatti tipici no? si molti piatti tipici Liguria ciughe ripiede, capo magro, trofie al pesto è una serata dedicata alla Liguria sponsorizzata dalla regione Liguria quindi mi sembra un festival che inizi con una prima serata all'insegna del relax ma anche una serata di qualità grazie sindaco buona serata grazie buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.